cari amici bentornati a codice blu Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che a causa di un decreto direttoriale del 4 aprile 2020 si sono fermate le emissioni delle specie all'octone, così dire. Una bomba scoppiata nel mondo della pesca e non solo perché nel mondo del turismo legato alla pesca, quindi dell'indotto. Continueremo a parlare di questo argomento con i nostri importantissimi ospiti, ma prima di iniziare ad addentrarci in questi meandri, chiaramente saluto la nostra padrona di casa Cassiopeia Bissi. Ciao Cassiopeia. Salve a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata di Codice Blu. Io vado subito a presentare i nostri ospiti qui in studio. Come sempre qui alla mia sinistra c'è il professor Ugo Claudio Matteoli, presidente FIPSAS. E dall'altro lato invece l'avvocato Francesco Ruscelli, direttore FIPSAS e collaboratore FIPSAS. Abbiamo anche dei collegamenti, infatti tra poco avremo il piacere di parlare con Alberto Gentile, consigliere FIPSAS e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per la Federazione. e l'assessore al territorio flussi migratori caccia e pesca Cristiano Corazzari per la Regione Veneto. E direi di poter far partire questa nostra puntata con il nostro solito video introduttivo. L'Italia è una penisola ricca di migliaia di chilometri di fiumi e di centinaia di laghi lungo tutto lo stivale. Luoghi dove poter vivere in pieno la pesca sportiva e beneficiare di momenti di riposo e relax. Ricordiamo che la pesca sportiva di per sé muove l'interesse di oltre 2 milioni di pescatori sportivi, stimando un giro d'affari del settore pari quasi a 400 milioni di euro, al quale si deve aggiungere un indotto stimabile in circa 3 miliardi di euro per spostamenti, ristorazione, pernottamenti, carburanti e permessi. Pertanto l'interruzione improvvisa delle emissioni di specie all'octone comporterebbe un grave danno alla valorizzazione della pesca sportiva in termini di marketing territoriale e ad un'alterazione degli equilibri dei territori, specialmente montani ed aree interne, che basano una parte significativa della loro economia su questa importante risorsa attrattiva. Questo in quanto l'adozione di criteri scientifici eccessivamente restrittivi e generalisti sta di fatto bloccando le attività di immissione e ripopolamento nella quasi totalità del territorio nazionale. Ci basti pensare alla trota fario, la trota eridea, il coregone e ad altre specie all'octone presenti da circa due secoli nelle nostre acque, da sempre gestite in modalità non invasiva e monitorata e che configurano un elemento fondante del sistema della pesca sportiva nazionale, la cui diffusione del conseguente impatto, qualora vi siano stati, hanno oramai raggiunto i naturali limiti. Per trovare una possibile soluzione si è tenuto un importante incontro lo scorso 22 giugno presso il MIPAF, con il ministro delle politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli. Incontro che ha visto la partecipazione del presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli e del direttore FIOPs e collaboratore FIPSAS Francesco Ruscelli. Un lungo confronto in materia di pesca sportiva, dove sono state esposte le principali problematiche aperte, sulle quali è stato chiesto l'impegno del ministro. Gran parte dell'incontro è stato dedicato al tema delle emissioni degli alloctoni, sui problemi connessi all'attuazione del decreto direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del 2 aprile del 2020. E' stata consegnata una dettagliata memoria elaborata della Commissione Tecnico-Scientifica della FIPSAS. La questione, seppur di competenza del Ministero dell'Ambiente, non può non prevedere un coinvolgimento diretto del Ministero dell'Agricoltura, che ha competenza diretta in materia di pesca. In seguito al colloquio con il ministro Patuanelli, il presidente della FIPSAS, Ugo Claudio Matteoli, ha fortemente voluto e promosso un incontro rivolto agli assessori regionali alla pesca, di tutte le regioni italiane, in merito alle problematiche relative alle emissioni degli alloctoni, che stanno creando gravissimi problemi al settore della pesca, sia turistico-ricreativa che sportiva, che all'allevamento, all'indotto economico e alla gestione delle acque. All'incontro hanno partecipato anche la FIOPS, Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva, e l'API, Associazione Pescicultori Italiani. I componenti del Consiglio federale, i presidenti dei comitati regionali FIPSAS e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Federazione. Il presidente ha evidenziato le incongruenze tecnico-scientifiche dei provvedimenti ed ha indicato i contenuti del documento che è stato consegnato il 22 giugno al ministro dell'Agricoltura Patuanelli, nel quale si richiede una revisione della tabella delle specie para-autotone e, in alternativa, una modifica della normativa attualmente vigente. Il presidente ha altresì evidenziato la necessità di fare fronte comune tra regioni FIPSAS, FIOPS e API per sollecitare un'immediata inversione di tendenza sulle materie oggetto dell'incontro, al fine di rimuovere tutti quegli elementi che, di fatto, impediscono il pieno sviluppo e la piena promozione della pesca sportiva, da un punto di vista sociale, turistico e sportivo e anche in termini di marketing territoriale. Cari amici, ma pensiamo davvero che l'allotonia sia l'origine di tutti i mali? Il vero problema da risolvere nelle nostre acque, ma non ce ne sono. Come più volte abbiamo avuto modo di dire, non ce ne sono di più importanti. Io vengo da un lungo viaggio nel nord e nel centro Italia, viaggio di pesca, viaggio di piacere, che si è trasformato anche in un viaggio di istruzione, per quanto mi riguarda. E la prima voce unanime da parte di tutti coloro che gestiscono le acque si chiama Cormorano. E intanto cominciamo a risolvere quel problema e vediamo che molti dei problemi successivi delle acque verrebbero risolti automaticamente. Il 95% dei pesci presenti nelle nostre acque è all'otto. È inutile che ce lo nascondiamo, è inutile che inventiamo situazioni strane. È un dato di fatto, prendiamone atto e basta. E per quanto riguarda il turismo legato alla pesca, che cosa dobbiamo fare? Non stiamo massificando, non stiamo abbassando la pesca come un fenomeno di massa che deve essere per forza commercializzato, ma dobbiamo tenere conto di questi aspetti che permettono alcune valli. Faccio l'esempio della Valsesia, la zona del Carcoforo, la comunità Valser del Carcoforo, che grazie alla pesca ha trovato il turismo. Ripeto per un'ennesima volta, la Val Trebbia, che grazie alla pesca ha trovato il turismo. Turismo che prima non c'era. Gli investimenti che sono stati fatti spazzati tutti via da un decreto unidirezionale, non concordato, non compromissorio, sbagliato in partenza. Cassopeia, abbiamo due importantissimi ospiti, te li lascio volentieri, perché loro ne sanno molto più di me. Io penso che dobbiamo fare un pochettino il punto della situazione, in quanto in questo tempo sono comunque successe delle piccole cose, ma che sono delle grandi cose. E mi riferisco al fatto che il Presidente e l'Avvocato Ruscelli hanno incontrato il Ministro delle politiche agricole, forestali, patuanelli, e anche gli assessori delle regioni italiane in materia di pesca. Quindi avranno sicuramente portato a casa, voglio dire così, un po' tra virgolette, un piccolo risultato. Giusto, Presidente? Sì, il risultato mi sembra una parola grossa. Abbiamo mosso le acque, mettiamola così. Nel senso che, come ci siamo detti ripetutamente, questo è un argomento che per cercare una soluzione non può che ricercarla nell'intervento politico. Nell'intervento politico perché se rimaniamo stretti e chiusi in un intervento pseudo-scientifico, direi più talebano che scientifico, e motivorò perché dico così, chiaramente non si va da nessuna parte. Quindi un intervento politico, per quello abbiamo incontrato con Ruscelli il Ministro delle Politiche Agricole. Io in settimana, al fine della settimana scorsa, ho incontrato il Ministro dello Sviluppo Economico, l'On. Giorgetti, per parlargli dei problemi, perché, come diceva giustamente Roberto, qui non è solo un problema di pesci, è anche un problema di turismo sociale, economico, sportivo. Quindi ci sono tutta una serie di argomentazioni che, attenti, nella 357, che è la legge da cui è partita, che è una legge della Comunità Europea, da cui è partito poi il decreto direttoriale, e le applicazioni, e l'applicazione sul territorio italiano, c'è scritto chiarissimamente che gli allottoni non si possono mai immettere, però tenendo in considerazione i problemi sociali, economici, turistici, sportivi e compagnia, che nel caso di specie non sono stati per niente considerati. Perché dico questo? Perché al momento sono stati, perché il decreto direttoriale chiede che per immettere gli allottoni venga presentato un piano di rischio, cioè si dica cosa si vuole buttare, dove si vuole buttare, immettere, e che rischi porta per la biodiversità e per le specie autottone esistenti nel luogo. E quelli sono stati presentati per ora da tre regioni, sono stati presentati dalle Marche, dal Friuli Venezia Giulia e dalla Liguria, e non sono andati per ora, per quanto ne so io, se non negli ultimi giorni alla competenza del Ministero delle Politiche Agricole, a quello del turismo, o della sanità, ma sono rimasti chiusi all'interno del Ministero dell'Ambiente e all'interno del Ministero dell'Ambiente è stato dato delle risposte che non sono negative, non sono rifiuti assoluti, ma che mettono talmente tanti paletti che diventano quasi negativi o rifiuti assoluti. E secondo me le proposte, cioè i piani di rischio che erano stati fatti, erano estremamente prudenti verso il rischio o verso certe cose. Io ce l'ho, l'ho letti, per me non hanno senso, quindi ribadisco, se si vuole rimanere strettamente nell'area, chiamiamola scientifica, io faccio lo scienziato di lavoro, nell'area scientifica, si può discutere quanto si vuole, ma poi bisogna prendere in considerazione tutto il resto, perché come diceva giustamente Roberto, ci sono valli intere che vivono sul turismo di pesca. E queste corrono dei rischi giganteschi. Poi se volete si va più nello specifico. Certo, proprio vero. la federazione ha anche lasciato al ministro una memoria. Ai ministri? Ai ministri. Anche a Giorgio. Ai ministri, quindi tutta una memoria che la commissione tecnico-scientifica ha stipulato per fare un pochino fronte a questa situazione. Francesco, dicevamo per l'appunto che si crea un danno che riguarda il marketing territoriale importantissimo. Quindi si spera che chi di competenza riesca un pochettino a capire che è realmente così. Stiamo parlando di realtà. Non c'è ombra di dubbio. In tutta questa vicenda noi assistiamo a un fatto molto sgradevole, ovvero quello di tenere in considerazione solamente un aspetto della complessa questione che stiamo affrontando, che è quello di carattere più scientifico e anche sul carattere scientifico riscontriamo che non c'è un'unanimità di vedute del mondo scientifico sul come affrontare il problema. Invece è del tutto passato in secondo piano la dimensione di compensazione legata all'impatto devastante che questo decreto direttoriale ha sui territori, come veniva ricordato, e in termini di marketing territoriale. Perché? Perché di pesca sportiva si può anche vivere come veniva ricordato e come ci sono esperienze d'eccellenza che dimostrano nel nostro Paese. Affinché questo accada è necessario che ci sia però un perimetro normativo e delle azioni operative che consentano di valorizzare la pesca. E un modo per valorizzare la pesca sportiva è quello di garantire la qualità della fauna ittica degli ambienti dove si va a pescare e che si ha in gestione con leggi regionali anche moderne e avanzate. Vedo qui l'assessore Corazzari del Veneto come il caso appunto del Veneto che è sicuramente un fiore all'occhiello in termini di gestione della pesca a livello nazionale. Quindi che cosa è necessario fare? È necessario fare quello che ricordava il servizio del Presidente, fronte comune tra tutti quei soggetti che sono interessati a fare pressione sul sistema politico affinché venga assunta su questo tema una decisione politica. Cioè ci sia un'assunzione di responsabilità politica che dica se bisogna proseguire nel considerare solamente una parte dell'aspetto scientifico su questa vicenda oppure come sollecitato dalla FIPSAS come è chiesto ai ministri come è richiesto agli assessori regionali si tende a tenere in maniera complementare anche tutti gli altri interessi perché se si compensano le une e le altre questioni non si potrà non arrivare a una scelta diversa che o modifichi la tabella dei parautotoni in maniera più semplice diciamolo in maniera anche molto semplice oppure vada a rivedere quel decreto direttoriale consentendo di tornare a valorizzare le acque e quindi i territori molto spesso collocati in aree interne che hanno delle difficoltà da questo punto di vista in maniera molto importante. Chiudo sul tema che aveva ricordato dell'impatto economico e anche questo non è secondario perché qui c'è un sistema che è messo letteralmente in ginocchio c'è tutto il sistema delle guide di pesca se vogliamo che non sono ancora ufficializzate ma che comunque di fatto esistono nelle pieghe della normativa ci sono associazioni che creano posti di lavoro nei territori ci sono regioni che avevano veramente le caratteristiche per poter competere con la Slovenia o altre regioni che fanno della pesca un punto centrale del proprio marketing e quindi è necessario mettere insieme tutte queste energie e io auspico e concludo veramente che arrivi forte e presto anche la voce delle regioni perché siamo in attesa di questo documento che le regioni hanno detto che dovrebbero elaborare a breve che dovrebbe andare esattamente nella direzione da noi auspicata. Più voci ci sono più credo il Ministero e poi anche i nostri parlamentari potranno ascoltare la voce dei pescatori e di tutto l'indotto. Io credo che sia molto importante il supporto della politica mi rivolgo a questo punto ringraziandolo per essere qui con noi per il tempo che ci dedica all'assessore Corazzari io sono veneto al 50% quindi ho vissuto in provincia di Verona in provincia di Treviso è un ricordo meraviglioso di acque ricche gestite bene belle con una miriade di appassionati di pesca ebbene qual è la posizione della sua nostra tra virgolette regione rispetto a questo decreto che è devastante anche per e che colpisce direttamente tantissimi tantissimi appassionati. Sicuramente noi sosteniamo la posizione del mondo della pesca chiaramente abbiamo inoltrato e stiamo inoltrando una richiesta per l'autorizzazione all'emissione di queste specie all'ottone ma che sono tradizionalmente presenti da sempre nelle nostre acque salmonicole nelle nostre acque alpine e prealpine l'applicazione diciamo anche di forme rispetto a quello che è il dettato normativo ma molto restrittiva che è stata data dal decreto ministeriale del 2 aprile 2020 per noi è del tutto immotivata noi siamo convinti di avere formulato una richiesta al ministero della transizione ecologica fortemente supportata da un rigoroso studio scientifico coerente con quanto disposto dallo stesso DM del 2 aprile 2020 speriamo che quindi si inverta questa tendenza di una interpretazione restrittiva da parte di ISPRE del Comitato Nazionale per la protezione dell'ambiente che da troppo tempo hanno e che molte queste situazioni quando passiamo dal ministero della transizione ecologica il suo nome mi mette spavento crea grandissime criticità che non tengono conto di tutto l'indotto che oggi la pesca rappresenta per il nostro territorio che avete ben esposto quindi noi abbiamo formulato questa richiesta abbiamo portato la tematica all'interno della conferenza delle regioni e siamo convinti che non si possa devoperare un patrimonio formidabile come quello della pesca sportiva del monte di ciò che la stessa rappresenta per anche la gestione dei nostri corsi d'arte io la ringrazio la ringrazio perché chiaramente sentire queste parole fa solo che bene e mi auguro che altri suoi colleghi delle altre regioni voglio dire le regioni vicine come possono essere Lombardia il Friuli Venezia Giulia e giù scendendo verso il meridione ascoltino le sue parole perché invece abbiamo avuto l'impressione che alcune regioni siano un pochino rigide vero presidente ci siano qualche forte perplessità secondo me e mi scuso se dico qualcosa è sbagliato inquinata da una concezione che è completamente sbagliata ovvero ci sono delle spinte interne centrifughe a fare in modo che crescano quei paletti a cui faceva riferimento ma non dalle regioni no io non credo che venga dalle regioni assolutamente perché ho contatti con un po' tutte le regioni italiane e dove ci sono perché il problema che è scoppiato in questo momento è quello delle trote stiamo principalmente parlando che si parla dall'Ottoni ma in questo momento il fulcro è la trota e in tutte le regioni dove ci sono trote questo problema esiste c'è si va dalle Marche all'Abruzzo fino al Piemonte il Veneto il Friuli il Trentino da tutte le parti qui c'è questo problema che questo vi ritorno a dire parte tutto dalla 357 che è della comunità europea poi la comunità europea fa una legge e gli stati trovano i decreti per l'applicazione della legge ecco io pregherei chi ha fatto sto decreto direttoriale che so pure nome e cognome peraltro che ha fatto sto decreto direttoriale forse dovrebbe fare un giretto in Austria o in Slovenia che a quel che mi risulta continuano ad essere comunità europea Austria e Slovenia bene se uno va in Austria o Slovenia dovunque vada la gente immette trote ridee che non mi sembra che sia un autotto né in Slovenia o in Austria io non parlo delle fario atlantiche parlo delle ridee che vengono messe tranquillamente e te Roberto lo sai benissimo perché ci stai andato ci vai e compagnia ma la comunità europea è sempre la stessa qualcuno mi dovrebbe spiegare perché in Austria e Slovenia se fosse ammette e in Italia è proibito come la peste perché così ve lo chiarisco la regione le regioni Marche Marche no ma la regione Friuli aveva fatto un piano di rischio che prevedeva l'immissione di trote ridee femmine e sterili in canali non nei fiumi o nei torrenti in canali gli è stato detto di no anche a quello quindi il problema è gigantesco fatemi dire un'altra cosa così rispondo a Francesco le regioni l'hanno già mandato la lettera al ministero della transizione ecologica l'hanno già mandata è stata fatta la lettera dal vicepresidente o vice coordinatore della conferenza stato regioni che è pugliese e ha fatto una lettera dove ha parlato dei problemi del FEAMP che sono problemi che riguardano la pesca in mare e questo problema dell'immissione dell'allotto quindi il ministero ce l'ha in mano questa lettera non solo ma non più tardi di due o tre giorni fa poi magari Alberto ne parlerà anche meglio abbiamo ricevuto io personalmente come personalmente no come federazione ovviamente una bella lettera dal presidente dell'ISPRA che chiede al ministero di fare un tavolo di lavoro per parlare di questa problematica noi siamo qua siamo disponibilissimi in qualsiasi momento quando il ministero fa questo tavolo di lavoro ora anche noi faremo una bella lettera al ministero rafforzando questa richiesta sperando che in questo modo si cominci a parlare di qualcosa di serio perché al momento non è molto serio allora noi qui collegato con noi c'è Andrea Fabris che è il direttore API non l'ho nominato prima perché ancora non era presente adesso lo vedo nei nostri schermi ben trovato buon pomeriggio buon pomeriggio allora visto che l'ho presentata mi rivolgo subito a lei e dico vorrebbe un attimino parlare dell'importanza socio-economica di questa situazione dato che riguarda il 20% delle trote che viene per l'appunto allevato per la pesca come dicevamo al telefono quando ci siamo accordati per per questa per questo incontro così va bene buon pomeriggio intanto di nuovo grazie scusate la precarietà del collegamento ma sono giornate intense ci sono incontri in presenza incontri in video qui c'è un po' un mix grazie per avermi invitato e due cose essenzialmente l'importanza della pesca sportiva per chi fa acquacultura è stato citato dal presidente prima il problema trote mi permette di fare una battuta che molte volte le trote che poi uno va a pescare in Austria in Slovenia soprattutto nelle aree vicine al confine sono trote che le diamo in Italia e le diamo noi quindi è un po' una cosa un po' così giusto per colorire un po' l'aspetto di quello che succede alla fine vediamo a pescare delle trote in Slovenia in Austria che però sono nate in Italia e sono state elevate l'importanza economica giustamente dicevamo abbiamo fatto una valutazione statistica lasciamo perdere il periodo del 2020 perché il covid ha influenzato una serie di problematiche diverse anche sulle aperture eccetera ma la pesca sportiva intesa sia come emissione in acque pubbliche ma sia anche come pesca nei laghetti pesca sportiva che tra l'altro in quel famoso decreto in qualche modo vengono fatti rientrare creando qualche ostacolo qualche regione ha avuto qualche dubbio anche su questo pesa per la parte di acquacultura d'acqua dolce piscicoltura d'acqua dolce quindi essenzialmente salmoni d'acqua dolce prendiamo la trote rideo l'affario i salmerini per circa il 22% se quindi noi produciamo 37-38 mila tonnellate di trote o salmoni d'acqua dolce in Italia capite che stiamo parlando di oltre 8 mila tonnellate di pesce che sono destinate alla pesca sportiva chi lavora per la pesca sportiva poi ha delle attitudini delle modalità di allevamento che non sono quelle per andare direttamente al consumo che prevedono ad esempio l'indenità da certe patologie perché se immette un pesce nelle acque libere deve essere indenne quindi capite che c'è un volano economico molto importante ma poi c'è l'aspetto sociale sicuramente perché vicino al laghetto di pesca sportiva c'è un indotto turistico e poi vi permettete perché è una cosa che noi con l'acquacultura stiamo sempre più calcando la mano chi fa attività di acquacultura chi fa attività di pesca nelle acque dolci è una sentinella ambientale per cui mi sembra strano a volte che anche chi fa chi è al Ministero dell'Ambiente non capisca il ruolo di chi va e diciamo giornalmente controlla quotidianamente controlla qual è la qualità delle acque controlla se ci sono delle problematiche in un ambiente delicato come quello delle acque dolci italiane distribuite su tutta la penicola e questo è un aspetto veramente importante noi riteniamo che siamo veramente sempre solidari a tutte le attività che sono state svolte e contribuiamo a darvi una mano dico e poi proprio veramente questo aspetto che dicevo all'inizio andare a pescare io sono abito in Friuli Venezia Giulia e vedere dei miei co-regionali che vanno a pescare trote allevate in Friuli Venezia Giulia è una delle regioni che produce più trote le vai a pescare in Slovenia è una contraddizione alla fine anche dal punto di vista veramente dell'economia del turismo del flusso di tutte queste cose qui diventa una contraddizione ma è assolutamente vero quello che dice io sono di quelli che va in Slovenia ne farebbe volentieri a meno e sono stato recentemente in Val Sesia e devo dire che ad esempio le acque del Sesia non hanno nulla nulla anzi da invidiare alle acque slovene il permesso costa tra l'altro di meno ma soprattutto nei ristoranti nei nostri magnifici ristoranti si mangia infinitamente meglio che nei ristoranti sloveni quantomeno c'è una scelta e si parla una lingua che si comprende e quindi il discorso economico diventa anche prevalente e non è sminuire e svilire la pesca per farne semplicemente del commercio perché la pesca è anche ben altro di quello che stiamo andando a dire è turismo ma è cultura è società è aggregazione è educazione e come perfettamente ha detto lo condivido è controllo del territorio un territorio come mi dicevano in Val Sesia che basta una piena la piena del metà ottobre del 2020 ha radicalmente cambiato il corso del fiume ha spazzato completamente via le sponde lo ha spostato ma quel che è peggio hanno recuperato decine di migliaia di trote morte che sono rimaste bloccate nelle anse che a loro volta si sono andate ad asciugare e se non vengono ripopolati questi corsi d'acqua cosa lasciamo? un corso d'acqua senza vita dentro perché gli insetti sono stati spazzati via i pesci sono stati spazzati via e cosa abbiamo? e quindi forse anche in quest'ottica bisogna cominciare a ragionare io vorrei estendere e parlare un attimo con l'amico Alberto Gentile con cui mi sono sentito telefonicamente anche stamattina lui gestisce delle acque o meglio nella sua regione ci sono delle acque magnifiche Alberto mi senti? certo certo ti sento Alberto io condivido completamente con te ho condiviso con te un'affermazione molto diretta che hai avuto non prendiamoci in giro il 95% dei pesci nostre acque è all'octono punto Alberto come la vedi da uomo uomo di pesca uomo di istituzione uomo di cultura e uomo di gestione delle acque guarda ti ringrazio della domanda perché mi dai la possibilità di ricordare anche a me stesso quanti anni ormai dedico alla gestione delle acque interne ed in particolare ai tratti popolati prevalentemente da salmonidi nel corso degli anni io ti posso dire che le cose sono veramente cambiate anche grazie alle conoscenze scientifiche ma la cosa che abbiamo imparato è che immettere pronto pesca a volte anche idee non è un fatto negativo per chi vuole conservare preservare e anche perché no recuperare i ceppi di trote autotene ma anzi può essere un validissimo alleato e mi spiego meglio quando si parla di gestione delle acque e bisogna contemperare sia interessi di conservazione e tutela degli ambienti naturali sia interessi legati alla fruizione quindi turismo e tutti gli aspetti socio-economici che sono già stati brillantemente sviscerati da chi mi ha preceduto bisogna anche accettare che a volte degli impatti ci siano ma non per questo quegli impatti dovuti alle emissioni devono per forza produrre degli effetti permanenti o negativi in maniera significativa per la tenuta della biodiversità e dell'equilibrio degli ecosistemi che significa questo tradotto in parole povere significa che a volte proprio l'utilizzo di questo materiale etiogenico può sostenere i progetti di conservazione per esempio dedicando destinando una parte minima che potrebbe essere il 5 il 10 per cento dico così valori ovviamente molto generici ma anche sacrificando tra virgolette sacrificando una piccola parte di questi corsi d'acqua dove io per esempio posso concentrare l'immissione del pronto pesca oppure destinare questi tratti a dei campi di gara attraendo così e concentrando la pressione alieutica in questi tratti lontani dalle zone invece che hanno un pregio maggiore e dove io posso anche perché no concentrare le mie risorse i miei sforzi per conservare una ipotetica eventuale fa una doctora vedi che anche quel piccolo sacrificio cioè l'aver sacrificato una parte di questi corsi d'acqua ti aiuta ad ottenere degli importantissimi obiettivi di carattere conservazionistico ma io volevo approfittare di questa occasione anche per raccontarti qualche altra situazione che veramente ormai ha del paradossale ci sono tanti corsi d'acqua in Italia dove le popolazioni di alloctoni in particolare mi riferisco alla trota fario di ceppo atlantica sono ormai naturalizzate quindi non possono essere estirpate non possono essere eradicate e per quanto una piccolissima parte della comunità scientifica sostenga il contrario nella realtà dei casi dobbiamo invece registrare che tutti gli sforzi anche economici che sono stati propusi in questi ultimi decenni non hanno restituito i risultati attensi perché le popolazioni sono ancora lì con le stesse densità e le cose dal punto di vista della integrità della biodiversità non sono cambiate ma abbiamo ancora altri paradossi ancora più forti ci sono dei laghi e in particolare mi riferisco ad alcuni laghi della Basilicata di origine vulcanica quindi hanno un'età geologica relativamente breve dove praticamente non dovrebbe neanche esserci la fauna autopsa cioè la fauna ittica quindi figuriamoci poi quella autopsa non hanno emissari non hanno emissari non hanno nulla ora se ti dico che in questi casi addirittura sono stati previsti dei piani di eradicazione della fauna all'occo cioè l'unica fauna praticamente esistente in questi laghi ti rendi conto del clima veramente di caccia alle streghe che in questi ultimi anni si è quasi radicato sia nelle istituzioni sia in una parte che ti ripeto minoritaria della comunità scientifica ittiologi italiana lo dicevi tu prima il problema uno dei problemi più gravi sicuramente per la tenuta e per lo stato della fauna ittica d'acqua dolce in Italia è non solo l'inquinamento l'alterazione degli habitat ma è anche un altro nemico nemico animale nemico che ha le ali che si chiama cormorano ti posso dire perché sto cercando di approfondire da qualche tempo il problema del cormorano che laddove si è riuscito ad allontanarlo in qualche modo i laghi come anche i fiumi sono ritornati a pullulare di pesce ecco basterebbe semplicemente questo esempio per attrarre un po' l'attenzione in maniera seria e anche più strutturata sul problema del cormorano che in Italia fatta eccezione per pochissime regioni non viene assolutamente considerato perché purtroppo una frangia estremista di ambientalisti ha occupato i posti più importanti delle istituzioni che contano e qui lancio una frecciatina anche a tutto quello che è successo all'indomani del decreto direttoriale di cui anche oggi ahimè ci troviamo a discutere bene Francesco parliamo un po' di prospettive come pensiamo per il futuro questa situazione in un modo o nell'altro beh insomma la domanda è impegnativa perché ci sono alcune variabili che purtroppo non sono indipendenti quindi semmai possiamo dire come noi auspicheremmo che sia il futuro perché penso che il punto centrale sia questo all'inizio di questa puntata è stata fatta tutta una carrellata della problematica e anche delle soluzioni da cui risulta in maniera evidente quello che dovrebbe essere fatto la modifica del decreto direttoriale quindi ogni nostro sforzo deve essere orientato nella direzione di arrivare a questo obiettivo un obiettivo che però dobbiamo dirci con grande franchezza non dipende da noi direttamente non dipende dalla Fipsas non dipende dalla Fiops non dipende dall'Api ma dipende dalla volontà del sistema politico di apportare delle modifiche che vanno esattamente nella direzione che noi auspichiamo che debba essere la direzione in cui questa questione deve andare allora ripetiamolo per l'ennesima volta la cosa più semplice da fare sarebbe modificare questa benedetta tabella delle specie para autoctone vogliamo parlare di quello che è successo qualche anno fa con la vicenda della carpa qui c'è il presidente c'è Roberto carpista doc che sono stati dei protagonisti allora io ancora non c'ero diciamo per cui possono raccontare forse sarebbe il caso anche di fare un piccolo accenno su questa questione vogliamo parlare di quello che è successo con la caccia è esattamente quello che dovrebbe essere dove il fagiano è stato dichiarato che è notoriamente cinese c'è anche l'occhietti così il fagiano è stato dichiarato parautotono sotto le pressioni giustamente economiche e sociali è stato dichiarato parautotono e i fagiani anche quelli ce l'hanno portato i romani così come la carpa come si fa a dichiarare all'ottono un pesce che da più di 200 anni è qui in Italia cioè si vive si riproduce è 200 anni che si fa gestione dell'acqua con quei pesci lì cioè con la pario atlantica è 200 anni che si ripopola che ci si mette che non si può pensare di farlo con la marmorata piuttosto che in certe zone con la mediterranea quindi improvvisamente dalla sera alla mattina un pesce che è 200 anni che è qui che come ha detto è naturalizzato come diceva Alberto improvvisamente diventa straniero e quindi come tale va fucilato e radicato e radicato per concludere il ragionamento ci sono delle testimonianze storiche nella biblioteca dei monaci camaldolesi a Camaldoli che dimostrano che la trota a fario veniva allevata dai monaci con tanto anche di modalità con cui questo avveniva in quella zona per cui questo è quindi che cosa possiamo fare continuare nella direzione di fare pressione politica di lavorare in combinato disposto con le regioni con tutte le associazioni per arrivare a una assunzione di responsabilità politica del sistema politico su questa vicenda e non arretreremo di un millimetro su questa storia nei prossimi mesi finché qualcuno eventualmente ci dica non siamo d'accordo ma così qualcuno si assumerà la responsabilità e certo non saremo noi comunque io credo che i margini se si vuole ci possono essere per dare una sterzata positiva a tutta questa vicenda d'altra parte quando 5-6 anni fa si parlava di Carpa salto fuori questa butada perché io non posso che considerarla una semplice situazione di grande comicità nel considerare la carpa comune come all'Octona noi ci guardammo in faccia pensando che chi aveva santificato preso questa decisione fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dopanti quanto meno perché perché come dici i monaci camaldolesi allevavano allevavano la trotafario i romani e ci sono evidenze a Ostia Antica che a 2000 anni c'erano le carpe e quindi c'è anche un problema di credibilità cioè le fonti del diritto coloro che stanno dando queste informazioni dovrebbero essere attentamente analizzati lo dico veramente con tono polemico assumendome le responsabilità perché è evidente che la loro credibilità viene a scemare nel momento in cui ci parlano di carpa all'Octona e allora cosa dovremmo dire andando dall'altra parte del mondo in Nuova Zelanda oppure andando in Patagonia dove le trote non c'erano e adesso grazie a Dio ci sono Presidente ma la politica ci sta dando una mano? Allora io ti faccio una mini road map perché credo che siamo arrivati come tempi alla fine la road map è quella il problema lo stiamo cercando di affrontare da varie direzioni come ti dicevo uno le regioni abbiamo un'assoluta necessità un'assoluta necessità di coinvolgimento di tutte le regioni perché la conferenza Stato-Regioni può essere un alleato fortissimo e importantissimo perché chi più di loro ha i problemi veri reali sul territorio legati al turismo e tutto quel che abbiamo detto prima le regioni secondo la politica la politica intesa proprio come ministeri intesa come Parlamento quindi stiamo prendendo come ti dicevo abbiamo chiesto un appuntamento al ministro della transizione ecologica stiamo andati insieme dal ministro delle politiche agricole ho parlato personalmente con il ministro del sviluppo economico che è Giorgetti quindi stiamo coinvolgendo tutti i ministeri o quasi tutti mi manca quello del turismo ma vado anche lì stiamo coinvolgendo tutti i ministeri interessati e con l'aiuto di alcuni amici parlamentari a cominciare da Simone Bossi che è un pescatore che quindi è interessato stiamo cercando di coinvolgere anche il Parlamento facendo delle interrogazioni facendo quindi il discorso come ti dicevo quando ho cominciato un'ora fa è va spostato sul piano politico perché credo che è quello spero che con quella lettera che è arrivata dall'ISPRA ci si cominci a aprire delle possibilità di discussione parliamo mettiamoci a sedere a un tavolo discutiamo e vi ricordo e finisco che la federazione è un'associazione di protezione ambientale siamo estremamente interessati alla protezione ambientale siamo fortemente interessati ma non in maniera talebana cioè fruendolo tutto lì io credo che stiamo arrivando ai saluti finali siamo arrivati anche questa puntata ci sono degli auspici direi intanto io vorrei ringraziare te come al solito padrona di casa il presidente Matteole ci sarebbe scusa se ti interrompo Roberto sempre molto da parlare a riguardi il tempo non è mai abbastanza troppo il tempo non è mai abbastanza di questo argomento dobbiamo continuare a martellare sui social anche se i social danno a volte delle risposte che lasciano molto perplessi perché la comunità dei pescatori a volte è molto informata a volte è meno informata a volte è destabilizzata da informazioni fuorvianti ma questo fa parte del gioco noi dobbiamo continuare a mantenere dritto il timone per andare verso la direzione appunto di una serie di soluzioni che vengono incontro a un mondo che è composto da due milioni di appassionati che ha diritto di voce e deve avere una voce forte e chiara compresa dalla politica compresa dagli assessori compresi anche da coloro che studiano le acque a cui va per una certa parte il grandissimo rispetto per il lavoro che svolgono un'altra parte quella un pochino talebana forse dovrebbe comprendere che determinate posizioni intransigenti non sono assolutamente accettabili oggi a fronte di una devastazione delle nostre acque che è sotto gli occhi di tutti e gente che ha qualche lustro in più come può essere il presidente può essere sottoscritto ha ben presente davanti agli occhi quindi risolviamo i problemi delle nostre acque quelli veri e poi successivamente cominciamo a parlare intanto fate sì che le nostre acque tornino a splendere come lo sono state considerando che un'altra stagione sta avvolgendo al termine perché a fine settembre la pesca della trota in gran parte le acque chiude e ci siamo giocati un'altra stagione con buona pace di chi ha investito soldi denaro tempo emozioni e passione in un qualche cosa che gli è stato tolto da un decreto quello di aprile 2020 che è francamente francamente per il mondo della pesca e per quanto riguarda tutti noi inaccettabile con questo vi saluto ringrazio carosamente i nostri ospiti il dottor Fabris l'amico il dottor Alberto Gentile l'assessore e noi ci vediamo alla prossima puntata di Codice Blu alla prossima puntata grazie e alla prossima alla prossima